E dopo il sindaco di Sannicandro abbiamo intervistato quello di Lesina, Pasquale Tucci. Se secondo il sannicandriese Pietro Paolo Gualano la sentenza del 5 ottobre sugli usi civici dei terreni ricadenti nell'istmo schiapparo è importante per sbloccare le impasse istituzionale tra i due comuni, il lesinese Pasquale Tucci ci risponde così. Il pensiero che ho su questa cosa è che questa cosa ha rappresentato per i due comuni una cosa totalmente inutile che è servita solo a sperperare denaro pubblico perché si sono pagate tre generazioni di avvocati si è partito dai nonni, poi ci sono stati i padri, oggi ci sono i nipoti su un'avvertenza che oggi non ha più credo neanche motivo di esistere perché si discuteva della possibilità di usi civici relativamente a parti del territorio di proprietà del Comune di Lesina che oggi non hanno più motivo credo neanche di esistere perché tra gli usi civici per esempio era ricompresa la possibilità di fare legna nel bosco ed altre cose per cui sono contento e su questo abbiamo pressato anche presso il Commissario perché questa diatriba si definisse più presto per porvi fine perché credo di poter raffermare che non serve né al Comune di Lesina né tanto meno al Comune di San Nicanto. Quindi la richiesta avanzata da San Nicanto di vedersi riconosciuta proprietaria dei terreni dell'Istmo ha valore o meno per Lesina? La contesa fra i due Comuni non riguarda le proprietà comunali cioè nel senso che non stiamo discutendo in quest'ambito i confini comunali né i territori di relativa appartenenza nella maniera più assoluta. Il Sindaco di San Nicanto ebbe a presentare questa richiesta davanti al Commissario il quale Commissario all'epoca della seduta ebbe a dire che quindi confermando quello che le sto dicendo che l'incarico che sta svolgendo lui e che quindi arriverà poi dopo a sentenza non è un incarico che stabilirà cose diverse rispetto alle attuali proprietà dei due Comuni nella maniera più assoluta. In quella stessa sede erano presenti perché la parte di quei territori a cui lei faceva riferimento sono proprietà comunali che in quella sede ebbero a raccontare al Commissario che la disponibilità da parte dei proprietari stessi era quella di cedere quelle aree ai contadini che da anni diciamo le hanno laureate proprio perché questo sembrava giusto ma a cambio però di un prezzo anche sociale e relativo però un minimo di riconoscimento di spese ai proprietari privati. Quindi il Comune di Lesina non ha motivi di discussione con Santicandro rispetto alla cessione di aree perché quelle aree a cui si fa riferimento sono aree di proprietà di privati. Ciò significa allora che per il sindaco di Lesina i terreni su cui solgono le case del villaggio dello Schiapparo sono di proprietà privata che non competono né a Santicandro né tantomeno a Lesina per cui è vana ogni diatriba sulla questione. Che i terreni siano di proprietà privata è comprovato sempre secondo il sindaco di Lesina dal fatto che la stessa società proprietaria dei terreni, ossia la Lesina e Serrelle ha presentato il PIRT, il piano di recupero territoriale. Io so che parte dell'istmo, se escludiamo il demanio ed altre questioni sono proprietà terriere di alcune di queste società. Lo affermo perché all'epoca della presentazione del piano di recupero il piano di recupero poteva essere presentato o dall'Ende stesso, quindi dal Comune di Lesina o dai proprietari terrieri e questo piano di recupero, il famoso PIRT a cui si fa riferimento per Torremilito è stato presentato dai proprietari. Quindi questo significando che erano legittimati perché in possesso di atti di proprietà. Poi se, dove, come e quando questi atti qualcuno li mette in discussione beh, questo non glielo so dire ed evidentemente va dimostrato, andrebbe dimostrato. Ma se la proprietà di detti terreni sempre essere fuori discussione sui servizi comunali che Lesina sarebbe chiamata a offrire e che secondo i residenti sono perlomeno lacunosi il Sindaco Tucci ci risponde così. Beh, questo lo devo contraddire lo devo contraddire con forza perché intanto la mancanza di servizi non è una mancanza legata alle volontà del Sindaco o del Comune di Lesina perché lei dovrebbe essere a conoscenza che in presenza di costruzioni abusive già con la 4785 si faceva divieto alle amministrazioni di erogare i servizi fin dando che non ci fosse, non fosse stata chiusa la procedura che portava eventualmente alla sanatoria e quindi al condono di quelle opere abusive. quindi i servizi mancano lì nella fascia di Torre Mileto non per disinteresse del Sindaco di Lesina o del Comune di Lesina ma perché la legge lo vieta. Chi ha la casa allo schiappato sostiene che paga i tributi comunali a Lesina e non riceve i servizi che ci si aspetta. Dai dati che mi sono stati forniti dagli uffici ho appreso che fra gli abitanti, diciamo così, o i fruitori di Torre Mileto la percentuale di coloro che è versa all'erario comunale per tributi comunali è all'incirca del 10%. Quindi se dovessi sedermi a fare i conti io oggi le devo dire, le posso dire che con il servizio di raccolta di nettezza urbana che garantiamo a Torre Mileto noi ci rimettiamo perché se paga il 10% e raccogliamo per 100% è evidente che quel 90% di raccolta in più che facciamo rispetto a coloro che giustamente pagano il tributo è una raccolta che facciamo con oneri che sono però del Comune di Lesina. Come la mettiamo sul servizio raccolta di fiuti che funziona a detta dei villeggianti a singhiozzo e con cumuli di immondizia paurosi? A volte succede perché nel periodo caldo cioè maggiormente nel periodo di agosto quando l'agglomerato è al massimo della popolazione ma noi abbiamo tra l'altro anche un aggravio di quella che è la popolazione di Maria di Lesina di quella che è Lesina e Cera quindi il servizio va in esubero abbiamo registrato qualche inefficienza a cui però poniamo rimedio immediatamente inefficienze che sono spesso dovute al carico di popolazione spesso dovute anche a questioni le può sembrare strano di traffico la macchina di traverso che non consente il camion di passare per fare le raccolte però sono situazioni su cui quando ci vengono segnalate interveniamo prontamente perché è chiaro che la raccolta è qualcosa che dobbiamo garantire. E ora apriamo il capitolo PIRT Cosa rappresenta per Lesina questo strumento urbanistico elaborato dalla Lesina e Serrele? Sicuramente il PIRT che è un piano di recupero territoriale rappresenta un'opportunità io credo di poter affermare che sia l'unica possibilità di avviare una procedura di sanatoria rispetto a quell'agglomerato e quindi una cosa da perseguire e lo sto facendo dal primo giorno del mio insediamento il PIRT è chiaro comprende una serie di situazioni urbanistiche che sono state poi elaborate in ragione di dettami forniti dalla regione Puglia All'interno di questi parametri è chiaro che sono state stabilite delle norme per esempio come quella che non potrà essere ricompresa all'interno del PIRT con tutti coloro che non hanno presentato domanda di condono con la 4785 e le relative leggi seguite di modifiche e integrazioni che non potranno avere il condono quelle costruzioni che ricadono in aree demaniali il piano poi prevede anche una ricollocazione dei volumi che per le ragioni che stavo dicendo non avranno la possibilità di condono potranno essere ricollocate in aree zonizzate dallo stesso piano che hanno la possibilità di essere edificate secondo parametri urbanistici già stabilite quindi acquistando la nuova casa dalla società che le ha costruite no acquistando la nuova casa perché la ricollocazione della casa non è detto che la debba fare la società uno la può fare anche autonomamente se consideriamo che i cosiddetti pseudoproprietari potranno opporsi al PIRT specie nel caso in cui la propria casa potrà essere abbattuta e poi ricollocata in altra zona lo stesso PIRT si riuscirà ad attuarlo e in quanto tempo? Io credo che il PIRT rappresenti l'unica possibilità di mettere la parola fine a questa vicenda dell'abusismo edilizio di Torremileto e quindi mi auguro che tutti lo perseguano perché avranno la possibilità di sanare le abitazioni per il resto che mi sta chiedendo siccome non ho la sfera di cristallo e quindi non ho la possibilità di raccontare quello che accadrà specialmente perché stiamo parlando di volontà di altre persone non sono in grado oggi di dare una risposta per ciò che concerne la tempistica quello che le posso dire è che la temporalità massima di validità del piano di recupero è quella consueta dei piani urbanistici di dieci anni poi io mi auguro che il tutto avvenga anche prima dei dieci anni Alla fine il sindaco di Lesina Pasquale Tucci afferma che non ci sono alternative al PIRT per risolvere il bubone schiapparo e si augura che il buon senso prevalga superando ogni diatriba e ogni divergenza Lei conviene con me che comunque i proprietari delle case non vedono di buon occhio la realizzazione del PIRT e quindi si opporranno sia alla demolizione delle proprie case sia al fatto di trovare soluzioni alternative alla situazione attuale Allora intanto partiamo col dire una cosa soluzioni alternative a quelle che sono ricomprese nel piano di recupero oggi non ci sono perché nella giurisprudenza italiana non c'è altro riferimento quello che diciamo mi auguro ma per il bene di tutti anche di coloro che hanno la casa lì è che con l'approvazione di questo benedetto PIRT che stiamo perseguendo dal 2000 tutti si facciano carico di questa situazione e quindi di trovare le soluzioni per il condone e la sanatoria di quelle abitazioni di questo Grazie a tutti.